Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio, Beati i perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli, Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e non prenderanno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi le insultate perché è grande la vostra ricompensa nei cieli, così hanno perseguitati i profeti prima di voi. Parola del Signore. Venite di qua per la litania, qui, 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 qua, 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 non dietro, ma avanti. Iri eleison, Christe iri eleison, Christe auditos, Christe cauditos, sabato. Pate diecielis Deus, Christe renovi, philid em count and di Deus, Christe renovi. Spiritus San Dei Dei, Miseri Novi, San Patrino, Dei Dei, Miseri Novi. Spiritus San Dei Dei Dei, Miseri Novi, San Patrino, Dei 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 Dei, Miseri Novi, San Patrino, Dei 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.